Prima di iniziare a parlare di forze, è importante specificare che alcune icone hanno influenza sia all'infinito, in un solo range, o secondo l'orientamento della stessa. Nella categoria delle force troviamo Motor, che è molto simile al Pash, ma applica una coppia di rotazione invece che una forza direzionale, ed è influenzato dall'orientamento dell'icona. Pash applica una forza unidirezionale, ed è uniforme con un valore, e quindi una direzione, positiva o negativa. L'influenza di questa azione può essere infinita, perpendicolare alla direzione, ma è possibile limitarla in un range. Vortex, effetto a vortice, ed applica due effetti molto evidenti, uno di traslazione ed uno di rotazione, ed è molto indicato per la creazione di buchi neri, tornadi, muninelli d'acqua ed altre situazioni affini. Naturalmente applica la sua influenza in base all'orientamento e posizione dell'icona. Il drag è una forza di trattenimento, se mi passate il termine, e serve per limitare l'effetto di velocità spostamento agendo sugli assi x, y e z. Di base i valori sono frazioni espresse in percentuali. Questa forza, come anche altre, possono avere delle forme, quindi delle influenze, che possono essere diverse, possono essere in maniera cubica, in maniera sferica o in maniera cilindrica. PathFollow, questo spacewap, è molto interessante perché consente di far seguire alle particles una determinata traiettoria, creata con un percorso, spline solitamente. Lo reputo interessante perché in molti casi può essere una soluzione molto rapida ed efficace, come vedremo prossimamente. Il p-bomb, effetto bomba, è molto utile per disperdere, come vedremo con un piccolo esempio, le particles nello spazio. Solitamente si utilizza in combinazione con il p-array. Sotto il menu geometric deformable troviamo un altro p-bomb, molto simile, ma di utilizzo differente. Il displace è lo stesso identico che troviamo sia nei modificatori che nel menu geometric deformable. Il p-bomb principalmente agisce sulle geometrie, ma può essere applicato anche alle particles, anche se in realtà il suo utilizzo è praticamente riservato ai solidi. Il gravity, come suggerisce il nome, applica un effetto di gravità che può essere positivo e negativo, ed ha effetto infinito secondo il valore e la direzione dell'icona. Ovviamente il senso della freccia è indicativo, poiché se il valore è negativo la sua influenza sarà inversa alla direzione indicata. Può avere anche l'icona sferica, e quindi una diversa tipologia di applicazione. Wind, l'icona del vento, è molto simile a quella della gravity. Anche in questo caso la sua applicazione può essere positiva e negativa, oltre ad avere controlli inerenti alla frequenza e alla turbolenza. Sicuramente i più utilizzati sono Gravity, Wind, Drag, Vortex, Pathfolov e P-Bomb.